Per sentirti a casa tua con la famiglia e per viaggiare e goderti la vacanza in totale sicurezza Blue Camp Sky 51 Il mezzo è stato immatricolato nel 2013, ha percorso solo 25.000 km ed è su Ducato il 2003 JTD 130 CV Il mezzo è omologato per il trasporto di 6 persone a 6 comodissimi posti letto, come potete vedere Il frigorifero è un 145 litri, i letti a castello possono essere trasformati in un comodissimo garage che può davvero ospitare uno scooter Ve lo proponiamo a 34.900 euro, ma sempre con la promozione slash io vado in vacanza Vi ricordo sconto extra di 1000 euro o super valutazione del vostro usato Il mezzo è possibile finanziarlo per l'intera cifra fino a 120 mesi senza alcun anticipo Ed è garantito motore, cambio, partilettica e cellula e utenze per un anno in tutta Europa Vi aspettiamo, venite a fare una prova su strada, qui alla vostra vacanza